buonasera a tutti ragazzi guardate qua allora siamo i preparativi della festa della madonna del Pozzo dei Capuccini e guardate che splendida luminaria della De Fazio che bella proprio con la M iniziale di Maria adesso mi inquadro tutti i quadretti con i cerchi dentro guardate questa le altre due luminarie e questa qui questa qua che apre il viale che conduce alla chiesa e ora procediamo ad entrare in chiesa eccoci qua ecco qua il parato della madonna del Pozzo eccolo qua faccio vedere un pochettino sempre così questi dettagli azzurri la croce ve la faccio vedere dopo ecco qui la madonna la dopofloriale il palio eccolo qua non può mai mancare finalmente lo montano vedete qua associazione Maria Santissima del Pozzo questo standard ecco qua la M di Maria associazione Maria Santissima del Pozzo altisegno parrocchia Santa Maria delle Grazie Trani anno di Cesano 2008 standard del 2008 questa è la croce che porteranno in processione eccola qua faccio vedere bene vedete questa croce così argentata ecco qua un'inquadratura sulla luminaria dell'entrata adesso cambio inquadratura eccola qua la luminaria dell'entrata purtroppo hanno fatto solo questa il viale è senza luminaria è una visuale in profondità con la luminaria della chiesa e vi faccio vedere anche la madonna al suo interno per ora è tutto a presto alla prossima festa